A poche ore dall'apertura delle prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid dei cittadini marchigiani d'età compresa tra i 70 e i 79 anni, sono stati oltre 50.000 gli utenti che hanno preso appuntamento per la somministrazione e che saranno vaccinati nel mese di aprile e nei primi giorni di maggio. Il volume di prenotazioni raggiunte nelle prime sei ore rappresenta quasi la metà dell'intero target di riferimento della fascia d'età compresa tra i 70 e i 79 anni, ha dichiarato l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, il quale ha poi provveduto a ringraziare tutti gli enti preposti per l'organizzazione del sistema. L'impossibilità di prenotazione riscontrata da qualche utente nel pomeriggio, ha precisato a poste italiane dovuta al caricamento soltanto parziale di una lista di nomi, è stata risolta in breve tempo garantendo l'appuntamento a tutti i richiedenti. Sempre da ieri inoltre sono attive le liste di adesione per la vaccinazione dedicate ai soggetti estremamente vulnerabili che non risultano seguiti dalle strutture assistenziali regionali ospedaliere non e che non hanno generato un'esenzione ticket. Per iscriversi è necessario consultare il sito della Regione Marche nella sezione dedicata ai vaccini. Gli referenti degli ospedali provvederanno a chiamare direttamente i pazienti iscritti alla lista per concordare l'appuntamento vaccinale. Sempre nella sezione vaccini del sito della Regione sono state aperte le liste di prenotazione anche per le persone con gravi disabilità che non sono assistite dalle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private. I coordinatori dell'Equipe di Medicina Generale provvederanno a chiamare i pazienti iscritti alla lista. Per quanto riguarda le vaccinazioni a domicilio invece nel distretto di Pesaro scenderanno in campo anche le guardie mediche che andranno quindi a supportare l'azione dei medici di base per la campagna domiciliare. Una decisione presa in seguito alla bassa disponibilità registrata sul territorio pesarese dei medici di famiglia con adesioni inferiori al 60%. Sabato sera ho fatto un incontro virtuale logicamente come ormai facciamo quasi ogni giorno con i coordinatori di echipe territoriali e con le referenti delle guardie mediche quindi della continuità assistenziale del mio distretto che hanno dato la disponibilità faremo una sorta di chiamata alle armi da parte degli uffici competenti dell'area Vasta 1 e speriamo di aumentare il numero dei medici. È notizia di ieri invece la firma del protocollo da parte del ministro della salute Roberto Speranza insieme alle regioni e ai farmacisti per far partire in sicurezza le somministrazioni vaccinali anche in farmacia. Adesso servono applicazioni a livello regionale quindi ogni regione dovrà decidere il percorso ad attuare a cominciare dalla formazione dei farmacisti che diventeranno farmacisti vaccinatori. Questa è una cosa molto molto importante. L'Istituto Superiore di Sanità ha già fatto partire un corso di formazione a cui stanno iscrivendosi e aderendo in tanti farmacisti da tutta Italia. Una volta che il farmacista è formato e che si è trovato l'accordo a livello regionale si parterà tutti per la vaccinazione che non riguarderà le categorie deboli o protette ma riguarderà diciamo le persone che sono in salute e che possono recarsi tranquillamente in farmacia rispetto anche al piano di vaccinazione che verrà stipulato a livello nazionale. E dietro di questo ovviamente servirà senza meno la presenza del vaccino. All'oggi non ci sono dosi per cui si giustifica la presenza delle vaccinazioni in farmacia. Crediamo che nel giro di 4-5 settimane diciamo entro il mese di aprile si possa partire a pieno titolo nella fase cosiddetta fase 2 in cui oltre alle categorie già protette quindi gli ultra ottantenni e settantenni che in questo momento vengono ancora vaccinate le categorie deboli, fragili, i cosiddetti societi fragili si possa poi partire con la vaccinazione di massa a tutta la popolazione.